Se bentornate in un nuovo video spacchettamento per quanto riguarda Faberlic è appena arrivato il pacco della campagna 14, primo ordine che ho fatto quindi andiamo a spacchettare Eccoci qui, allora, prima di farvi vedere tutti i prodotti vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attuare la campanella e di andare giù nell'info box perché lì come sempre troverete tutti i link inerenti ai miei social come Instagram, qui sono sempre Fortuna Fescio in Makeup ma troverete anche i link per quanto riguarda Faberlic la mia pagina di Facebook Fortuna Faberlic e per quanto riguarda l'iscrizione a Faberlic che ogni volta non mi stancherò mai di dirvelo di iscrivervi Allora, ho aperto il pacco, vado a togliere l'imballo Allora Questi sono i prodotti Altro imballo e poi, vabbè, c'è la campagna nuova che uscirà a breve Questi sono i prodottini Allora, in questa campagna avevo anche dei codici sconto Allora, eccomi qua ragazzi scusate ma mi stavo facendo vedere i prodotti ma mi sono accorta che non registrava Bene Dunque vi faccio vedere un po' gli swatch che avevo fatto Allora, questo è l'eliner viola che è questo qua che avevo preso già il nero è quello celestino e il codice è 5440 ed è questo bellissimo viola qua Poi la tinta della linea Glim Team Makeup che è questo colore qua sono le tinte che io già ho preso di altre colorazioni Questa è una nuova colorazione e mi piaceva il colore quindi l'ho presa Poi ho preso sempre per quanto riguarda i rossetti matt questi di questa linea con il pack dorato e lo specchietto che già ne presi uno e me ne sono innamorata Allora, questo qua è il numero 40037 ed è questo colore qui qui in basso questo qui poi ho preso il numero sempre della stessa linea 40035 sempre di questa linea ed è questo colore qui questo qua eccolo qua eccolo qua questo qui e poi sempre come rossetto ed ultimo ho preso ad esempio della linea Glim Team questo qui al centro che è meraviglioso sempre sempre matt eccolo qua ed è questo qui questo qua meraviglioso poi ho preso per i capelli la linea questa qua gloss per quanto riguarda sempre della linea fab della linea expert però nella versione gloss per avere i capelli più lisci avevo una curiosità e quindi di me li sono presi e poi vi farò sapere ho preso questo per mio marito che è un dopo barba poi per quanto riguarda i profumi avevo preso questa linea felice con una promo che c'è sul catalogo che se vi interessa li trovate ancora e dura fino a domenica quindi io vi ricordo di affrettarvi perché comunque domenica è l'ultimo giorno per la campagna 14 l'ho presa sia da uomo che da donna a un prezzo veramente ottimo se non erro intorno ai 12 euro tutti e due 12 12-13 euro ora non ricordo per l'esattezza e quindi quello da donna è fatto così ed è buonissimo eccolo qua della linea felice e poi c'è quello da uomo sempre con lo stesso cartone fatto in questo modo qui eccolo qua e sono da 30 ml per quanto riguarda ancora profumi allora vi faccio vedere un po' di cose che ho preso per quanto riguarda i regali e quant'altro allora i regali sono stati questi due che mi sono presa con i punti mi sono presa lo shampoo la maschera e la fiala della stessa linea questi sono praticamente sempre della linea expert ultra power e sono agli aminoacidi vediamo un attimo come saranno poi vi farò sapere poi ho preso il fondotinta con il con lo sconto col coupon che avevo di 4 euro e 50 e meno e quindi mi sono presa il fondo che avevo provato il campioncino mi è piaciuto e quindi me lo sono preso mi è piaciuto veramente tantissimo io l'ho preso nella versione 6174 eccolo qua bellissimo matte ovviamente mi piace moltissimo come copre poi ho preso sempre con i punti voglio dire sempre con il per quanto riguarda lo sconto di 4 euro e 50 mi sono presa anche la cipria che nella colorazione 6349 che volevo provarla visto che la mia la sto terminando è fatta così bellissima anche per fare un regalo bellissima e questo è il suo interno porta lo specchietto questo è il colore porta la spugnetta il lattice e porta anche una cartina per proteggere il colore la cipria eccola qua bellissima vedo l'ora di provarla poi sempre con per quanto riguarda il coupon delle 4 euro e 50 in meno rispetto al prezzo che noi consulenti paghiamo ho preso anche un profumo questo è da donna urban legend ha un pezzo meraviglioso ragazzi eccolo qua sopra è fatto così il tappo vediamo buonissimo vedremo vedremo poi vi farò sapere poi ho preso sempre con i punti anche questo per mio marito allora quello da donna è da 50 questo è da 50 e quello da uomo invece è da 100 mamma mia bellissimo bello 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 con questo tappo veramente molto molto bello buonissimo buono buono poi infine allora ho preso questo prodotto che è praticamente l'acqua micellare della linea Oxilogy Oxilogy e l'ho potuto prendere a pochi euro perché comunque sono andata avanti col programma start e quindi mi sono presa questo e poi perché comunque sono andata avanti appunto nella campagna 4 non nella campagna nel programma si potevano scegliere appunto delle creme e io ho preso questa per quanto riguarda praticamente questo perché sono sono diventata consulente VIP questo qua e questa perché sono passata al al programma start di Faberlic al numero 4 e quindi potevo prendere la crema per il viso questa praticamente è la crema fluido per il viso idratante da 50 ml questa qui che poi la proverò e vi farò sapere questa qui e infine ho preso il prossimo catalogo della campagna 15 che uscirà a breve inizierà dal 5 fino a 5 ottobre 25 ottobre ma poi ne parleremo in un altro video questo è quanto spero che questo spacchettamento vi sia piaciuto scusate se non avete visto quando ho aperto i rossetti e tutto quanto ma alla fine non mi stava registrando il video e quindi li avete visti già sbocciati vi rifaccio vedere i colori dei rossetti della tint delle liner che vi consiglio e nulla vi lascio giù come sempre tutti i link per quanto riguarda Faberlic Instagram lasciatevi un like e fatemi sapere cosa vi piace e cosa vi incuriosisce noi se volete ci vediamo al prossimo video ciao ragazze ciao a tutti Grazie a tutti.